ciao sono ryzen questo è mixtube ed oggi andremo a vedere cosa c'è dentro la degusta box di giugno vi informo che non sarà il solito video unboxing ma dopo questo video ce ne saranno altri due in cui utilizzerò alcuni dei prodotti trovati per realizzare dei piatti completi ispirato dei video unboxing di acid rain ho deciso di acquistare questa box perché volevo mettermi alla prova con una nuova esperienza e riprendere un po della creatività persa durante questo periodo di stallo mentale inoltre dopo aver tartassato di domande lo staff di degusta box hanno deciso di regalarmi anche un codice promozionale che vi permetterà di avere uno sconto qualora decidiate di acquistare la box lascio tutte le informazioni e i dettagli qui sotto in descrizione dopo questa breve prefazione andiamo subito a vedere cosa c'è dentro la box il primo è un prodotto della doria ed è uno snack fatto con ceci riso fagioli borlotti e soia ed amame composto dal 90 per cento di legumi e quindi ricco di proteine e di fibre con solo il 3 per cento di grassi devo dire che sono molto incuriosito da questo prodotto e che quindi potrei prenderlo in considerazione per la realizzazione di uno dei due video che andrò a realizzare successivamente e quindi Anche questo è un prodotto della Doria, ma composto da ceci, lenticchie, piselli e riso. Pur mantenendo le stesse caratteristiche, non potrò assaggiarlo, perché sono allergico ad uno degli ingredienti al suo interno. Ma trattandosi di cibo, non credo che faticherò a trovare qualcuno disposto a mangiarlo in mio onore. Grazie a tutti. Il terzo è un prodotto della Nature Valley, crunchy avena e cioccolata fondente, ideali per la colazione o da portare in giro per uno snack. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le spuntinelle 7 cereali morato. Sono morbide fette di pane senza crosta, preparate solo con ingredienti naturali, lievito madre, olio d'oliva e un mix di 7 cereali, arricchito dalla croccantezza dei semi di lino e di girasole. Questo sicuramente diventerà la base per un ottimo sandwich. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed eccoci qua con le tortiglia Santa Maria. Con questo prodotto è stato allegato anche un libricino che dopo vi mostrerò nel dettaglio e che mi ha convinto ad utilizzarlo come una delle due ricette che sicuramente preparerò. Il libricino in questione è della Tex-Mex, che significa Fusione delle ricche e colorate culture gastronomiche di Messico e Texas. Queste tortiglia sono una base perfetta e versatile, sono senza conservanti e si arrotolano senza rompersi. Con un pack sostenibile e riciclabile e con un ridotto impatto di CO2 nell'ambiente. Grazie a tutti. Ed eccoci qua col caffè, macinato per moca Pellini Bio, proveniente da agricolture biologiche dalla fascia tropicale, coltivato in altura all'ombra degli alberi d'alto fusto e dei banani. Sono molto incuriosito da questo prodotto e non vedo l'ora di assaggiarlo. Lui da solo infatti ricopre praticamente il prezzo dell'intera box. Per avere maggiori informazioni anche sul valore dei prodotti che vi sto mostrando, andate nelle descrizioni del video. Grazie. 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 il pesto arancione della Mutti, con il 45% di grassi in meno rispetto alla media dei pesti più venduti, ideali per condire la pasta e per crostini finger food. Conosco molto bene questa marca e acquisto già regolarmente i pesti della Mutti, quindi sicuramente non mi deluderà. Ed ecco qua, un succo di frutta della Bravo. Potreste riceverne nella vostra box 4 tipologie diverse. Arancia, che contiene l'80% di frutta e vitamina C. Ananas, che contiene il 70% di frutta e vitamina B2. Frutti rossi, che è quello che ho ricevuto io, che contiene il 65% di frutta e vitamina B6. E arancia, frutto della passione, che contiene il 65% di frutta e vitamina E. Ecco il tè nero, dell'estate biologico, si conclude praticamente il nostro unboxing. Sono molto soddisfatto del mio acquisto e spero di poterlo continuare, sempre che questa tipologia di video vi piaccia. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e partecipate attivamente alla realizzazione dei prossimi video che andrò a realizzare e a pubblicare questa stessa settimana. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e ricordate che io cerco sempre di migliorare me stesso. Quindi non esitate a dare dei consigli, perché la vostra opinione è molto importante e perché da soli non si arriva mai da nessuna parte. Vi ringrazio per l'attenzione, spero vi siate divertiti nel guardare questa mia nuova esperienza. Grazie, da Ryzen.